ecco qui il camino che tira perfettamente adesso la velocità è a 4 però anche con sul 3 sta va benissimo questa era una canna fumaria che ci dava sempre problemi ma con con il aspiratore jamie abbiamo abbiamo risolto abbiamo sistemato qui il regolatore ecco qui e sul 4 adesso vi mostro anche all'esterno la canna che tira perfettamente eccola lì gira e con gemmi abbiamo risolto